Bello a tutti burloni sono Arce e benvenuti in questo nuovo video sul canale Siamo tornati sulle Skywars, direi di non perdere tempo con delle cose lunghe che diciamo E andiamo a giocare, siamo ovviamente su Magic Mine, trovate il link in descrizione Se volete nel pomeriggio credo che sarò online a giocare, quindi venite, giochiamo un pochino assieme e ci facciamo qualche partito Adesso ragazzi vi dico subito una cosa, voglio provare a vincere, la settimana scorsa non ce l'ho fatta, cioè sabato non ce l'ho fatta Allora sto non mettendo le cuffie ragazzi perché mi avete detto che preferite vedermi senza i cuffiozzi e così Effettivamente non sento il suono in questo momento, cercherò di riprendermi delle cuffiettine, effettivamente sono troppo grosse e vabbè Lasciate subito un like e scrivetemi nei commenti che cosa vi piacerebbe magari vedere in più nelle Skywars che già c'è Insomma se volete vedere qualcos'altro, se c'è una cosa che vorreste aggiungere che magari non c'è Ditemelo che magari lo raccontiamo ai grandissimi, bomberissimi, fantasticissimi amichi di Magic Mind e dirò Ragazzi guardate che questi qua vogliono che si aggiunga un cesso Però questo toglie 5, beh toglie la stessa cosa, ci facciamo i blocchi, c'è il muro magico e le tienti lanciabili Vediamo se riesco a tipo uccidere lui così, va che muori Ok non è morto, sti cazzi non è morto Eeeh tu chi sei? Bughino, Bughino ma che stai a faa, ah Bughino Ma io posso tranquillamente saltare perché stavo cercando di fare ponti inutilmente, non si sa ma questo Oh c'è già uno, ehi ciao, ciao bomber Ma ciao bomberissimi, ma le ceste qua? Ma c'è uno delle ceste o mi sbaglio? No qua c'è semplicemente un teschio Io non sento i rumori senza cuffie ragazzi, mi spiace ma dovrò mettermi le cuffie nella partita dopo Perché sennò, come faccio? No, ehi pala, ehi pala, ehi pala Vai che muori, vai che muori Eeeh quanto ne abbiamo tolto raga, un tot Si è buttato giù Ehi nonno del cantiere, come sta? Non me l'ha data me la kill Si è stato assassinato da madamarci Ah, ma allora? Ma allora cosa mi racconti di bello? Qua c'è un tipo un testo che mi voglio Ah no, sono già con il kit Va bene, mangiamo un attimino Ma Blanket, ma Blanket, ma che mi racconti? Blanket, grande, Blanket Mamma mia Blanket Ucciso con una cattiera, inaudita il buon Blankettino Mi piace Blanket, ok Mi direi tantissimo, però, però è così Allora, vediamo se qua c'è Ma non c'è niente Allora, io direi di andare verso il buon Ale Paco Che ha la mia skin, ma blu Guardate che bella Quante, quanto è bella raga Quante belle Ale però, hai la vecchia Ti devi mettere la nuova La nuova fatta figa Allora, c'è, c'è, vivono nel cantiere Che potrebbe arrivare da dietro Io ve lo dico Io me la giocarei così No, no, no Madonna raga Madonna raga Ehi, 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 ehi Che mi vuoi fare, Ale Paco? Mori, 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 mori Mori che ti manca poco Mori che ti manca poco Ok, è morto E se adesso arriva Ale Paco Sono nella merda io Se arriva Ale Paco Sono nella merda raga Ma proprio tantissimo Sì, sta arrivando Io ragazzi non so se lo voglio sfidare subito Aiuto, 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 aiuto Aiuto, dov'è lui? Dov'è lui? Ma lui è caduto? Eccolo là Ma cazzo, era il muro Ma mannaggia quel maialino Ho sbagliato Sto usando il muro Ho sbagliato Sì, ma Ci buttiamo giù, uccidiamo così Ci buttiamo giù, uccidiamo così Vai, vai Ale Paco Vai che c'è un cuore Boom Prima vittoria ragazzi Prima partita Prima vittoria Con 4 kill ragazzi Andiamo Nella seconda partita È stato figo il muro Effettivamente Se lo utilizzavo meglio Era molto più figo Oh ragazzi Siamo su Ladybug Che è una mappa veramente figa Comunque Una cosa che non vi ho detto È che la webcam L'ho sposata da questa parte Se notate Perché me l'avete chiesto Tipo in 57 58 forse Anche 59 E anzi Se siete arrivati Fino a questo punto Dovete scrivere Hashtag Niente Mettete solo un hashtag Se mettete solo un hashtag Vi metto il cuoricino Ve lo prometto Anzi Metto il cuoricino a tutti Oggi ho deciso Oggi faccio il cuoricino dei Però tipo un cuoricino dei ragazzi Nel quale metterò il cuoricino Tutte le volte A tutti Cioè Oggi mi piazzo io Cazzo il cuoricino A tutti lo metto Proprio a tutti lo metto Che cazzo Oh c'è un'altra cesta Buono 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 Se c'è un'altra cesta È buona come cosa Perché si è già messi bene I piedini ce li mettiamo anche in pelle Questo dovrebbe togliere 6 Ci prendiamo il muro Guardate come funziona il muro ragazzi Così E ci facciamo tipo così Vedete Guardate che figata Guardate che figata E qua si fa tipo così È tipo Fortnite ragazzi Ma quanto cazzo è figo Poi dopo un po' finisce ovviamente Però è una bomba assurda raga Il cibo ce l'abbiamo I blocchi li abbiamo Perché abbiamo il kit ovviamente Io direi che Ci teniamo anche questo qua qui Ok direi che possiamo andare al centro È un po' difficoltosa la cosa Perché teoricamente siamo È una mappa da 12 Credo Da 10 Da 12 Dovrebbe essere abbastanza grande Ora Non vorrei dire una cagata Però ho paura di morire io Se mi becca qualcuno Sono morto io qua Sono essenzialmente morto Sono essenzialmente morto Madonna raga Quando faccio ste cose Stavo avendo le cuffie Non sento niente raga Lo so Lo so Lo so che dove potrei metterle Però non le metterò Perché me l'avete chiesto E io sono bravo Se mi chiedete una cosa La faccio Ragazzi però Qua ci sono delle chest devastanti Devastanti raga What the fuck Allora il rosa Il rosa c'è Oddio ma Qua c'è Oddio Aspetta Questo è il rosa E io il rosso Amichi Dove siete Amichi Amichi Niente amichi vero Non c'è nessun amico Ma dove siete Uh Uh Attenzione raga Attenzione Ma c'è Possiamo giocare anche noi Perché se c'è il tizio Che sta andando verso di lì Attenzione raga Speriamo Se mi buttano giù Fanno una grandissima cosa Se non mi buttano giù Fanno una grandissima cosa Perché Non mi fanno morire Essenzialmente Vediamo Io c'ho una mela d'ora Ragazzi Io non so se la voglio prendere subito o meno Devo capire chi c'è sotto di me Di me c'è C'è le pacco Grande le pacco Sempre tu Incredibile Devi morire Devi morire Ale Devi morire Eh Ale Guarda Ti do l'ultimo colpo dopo Tata Sei un po' Ale è un pochino nabbino Il buon Ale è un pochino nabbino Mi spiace dirtelo Alino Però sei un pochino nabbino Ce l'hai capito C'è proprio un tot Vabbò 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 In diamante Aveva solo questo Raga Seriously Pensavo che avesse altro Raga vi dico la verità Pensavo che avesse altro C'è non ci sarà praticamente niente C'è qualcuno qua No oddio Sì raga Torniamo Facciamo così Torniamo indietro C'è andiamo verso di qua Dove è arrivato Ale Paku Olè E andiamo verso Tipo lui Vediamo un po' quanto dura Devo fare così Perché se corro Cado ne sono sicuro Vedete Io sono capace di Di cadere pure Ok Lo so che si potrebbe Correre in teoria Però io faccio il bravo E non corro Perché l'altra volta Sono caduto Perché io ho pubblicato Ho un ping di merda Ragazzi Quindi non vorrei morire a caso Solo perché Pingo Pingo tanto Cioè pingo tantissimo E arrivo dopo Ok Dai Sbam Peraltro volevo farvi Una domanda Voglio sapere se tra di voi C'è qualcuno Che è davvero bravo Con il pvp Davvero bravo Io intendo Oh ma là c'è l'artista Uè Proprio un artista sei Cioè sei proprio Un grandissimo artista Sei nil Chi si ricorda nil Nessuno di voi Probabilmente Che hype raga Che hype sta partita Non ho ucciso solo Ale Ho ucciso Cactus Ok qua dovrebbe esserci Ancora qualcuno Blank è stato ucciso Da sola ragazzi Ok Questo qui secondo me Mi apre in pvp Non so perché Lo penso Vai che ti ho preso di colpo io Eh ma tu Oh Oddio mi ha tolto un tossacco Ma ha tolto un sacco Ma ha tolto un sacco Vai giù Ok ucciso anche artista Sei salvato Salvato artista Ok no 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 Ok 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 È morto artista 1v1 contro nonno 1v1 contro nonno C'è da capire dov'è nonno Dove sei nonno Dove sei eh Dimmelo dove sei Dimmelo dove sei eh Dimmelo Dimmelo Al centro Ok Che sei al centro Ah sono Arlidial Non contro nonno sono Ok Quindi io sapete cosa faccio Passo da qui Vado verso il centro E secondo me è fatta la cosa Secondo me è fatta Ok questa partita sta durando Più del previsto eh Questa partita sta durando No 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 Olè ragazzi si inizia Questa è l'ultima partita Che oggi faccio Perché mi sa che sono scarso Oggi Beh anche in realtà Sempre sono scarso Hashtag Marci scarso Nei commenti Ma questo È una cosa È un dettaglio Più che trascurabile Secondo me È una cosa che non dovete Neanche pensare di Pensare di dire a me Perché non sono scarso Cioè sono scarso Ma non lo sono veramente E gli unici che ho di fian... Ok Vai che esplode Oddio Come Dio Ha preso danno raga Ha preso danno Ha preso danno Porco 2 Mannaggia raga Non c'ho niente per andare da lui Però E che faccio È un madonna mia Ok No no ma Niente No ma io la pensavo No ma C'è capito no Quello che dicevi te Sì no ma l'altra volta Sì sì Quando ci ha chiamato Draco Malfoy Esatto Esatto Bravissimo Bravissimo Grande Sei proprio un bomber Oh mio dio Oh mio dio Non hackerò Non hackerò Ma come cazzo ha fatto Errò Non hackerò Irrò alguma Sì 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 Grazie.